Buongiorno, ma se il massimo dell'affitto candidato fosse 800 euro e io avessi affittato a 600 euro, alla scadenza non potrei chiedere un aumento? Grazie mille per questa tua domanda, allora leggendolo gli altri tuoi commenti dove dici io intendo alla scadenza dei 4 più 4, mi sembra ci sia un po' di confusione, quindi proviamo a fare chiarezza. Allora, per i contratti 4 più 4 non è previsto il canone concordato, ma il canone viene liberamente stabilito dalle parti, si chiamano infatti contratti a canone libero. I contratti a canone concordato sono invece i 3 più 2, 4 più 2 eccetera, i transitori e quelli per studenti universitari e simili. In ogni caso, se il canone massimo previsto dagli accordi territoriali era di 800 euro e tu hai, molto generosamente direi, affittato invece a 600 euro, alla seconda scadenza dovrai comunque rifare il calcolo del canone massimo applicabile secondo gli accordi territoriali perché magari nel frattempo sono cambiati i parametri e poi utilizzare quel canone lì oppure un canone inferiore come hai già fatto in passato sempre che tu lo abbia fatto, a che appunto la tua non fosse soltanto un'ipotesi per appunto fare questo commento. Quindi questo è quanto, spero che questo video sia utile a molti, come sempre se volete fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!